Un attimo, un attimo dice Rab, così tanto che loro si occupano della Torah la divinità diventa vicina, significa che il creatore arriva e veste la persona correttamente e dice che viaggiando nei vari gradi la Shekinah arriva e mette se stessa davanti, significa che quando una persona vuole diventare più vicino al creatore, il creatore arriva più vicino alla persona, si avvicina, quindi c'è una polarità, pensa che il creatore che si sta avvicinando a lui, ma piuttosto prima quando la persona, non è che la persona stava facendo qualcosa, ma il creatore gli sta dando un desiderio che gli ha dato un'anima e così avanza, così in questo modo la Torah promuove una persona, sì, una grande fontana.